Mano eh, giù la mano, giù la mano, vai con il suo arco! E' bravo! Giù! Giù! Dai bene! Via! Via! Voce! Giù la mano! Voce! Non è che non è giù, non è giù, non è giù. Dove? Ok! Adesso in giù e mi ha dato l'amore, mi ha detto chu SH樓. E trattato l' solite che crea l'azio. Ok! Riggimento! Non vale accennoiv случае! Grazie. 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 Grazie.